Un sistema perfetto, quello scoperto dal nucleo di pulizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli, che ha portato questa mattina all'arresto di 16 persone per associazione a delinquere finalizzata la frode fiscale. I furbetti dell'F24, come li hanno chiamati gli investigatori, erano attivi in due studi di commercialisti a Napoli-Aversa ed erano riusciti a raggirare l'erario dichiarando per i loro clienti crediti che erano del tutto inesistenti. L'indagine parte dalla denuncia in procura di diversi imprenditori che, dopo essere stati clienti dei due studi, avevano ricevuto una cartella esattoriale. Così è stato accertato che quella che i commercialisti ritenevano essere una vittoria era invece una truffa. 500 le persone coinvolte e 5.000 i F24 presentati tra il 2013 e il 2016 che compensavano crediti inesistenti. In pratica il fisco accertava un debito di svariate migliaia di euro e i commercialisti lo azzeravano con dichiarazioni di crediti falsi. Moltissimi dei contribuenti erano consapevoli, altri invece erano all'oscuro di quello che accadeva e pagavano una parcella molto salata ai due professionisti. Sono coinvolti anche un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, due avvocati e tre imprenditori, uno di quali di Napoli, operante nel settore dei metalli, che ha fatto compensazioni fraudolente per oltre 6 milioni di euro. L'Agenzia delle Entrate, quando vede...